Salve, io sono Jenny DL, sono nata qui a Sanremo e sono nata artista, diciamo perché da quando ero bambina amo disegnare, colorare un po' anche la mia vita e ultimamente mi sono avvicinata al mare e ho voluto usare la sabbia del mare per creare i miei quadri. Ah, dimenticavo di presentarvi la mia gatta che si chiama Toffì e vi saluta anche lei. Allora, sono qui davanti a questo quadro che non è mio, è di una persona molto cara a me, lei si chiama Tiziana ed è una persona diciamo molto introversa. In questo quadro ho voluto tirare fuori la sua ironia. Questo quadro si chiama Butterfly e c'è una donna girata di schiena con una coroncina di fiori e quei fiori sono i sogni di una ragazza, di una donna. Peccato che i suoi capelli sono mossi da questa cosa, da questa violenza e le sue ali da farfalla perché lei vuole volare in alto sono state spezzate proprio da questa violenza. Frida Kahlo perché l'ammiro come donna prima di tutto e poi diciamo che adoro le sue opere, mi piace il suo messaggio. Allora, questo quadro è diverso da tutti quelli che sono qui perché questo quadro è fatto col vino, è dipinto col vino. È un vino speciale, si chiama notte di note, è un vino rosso toscano e io l'ho usato per dipingere questo quadro perché principalmente sono un amante del vino, è quello buono. L'immagine è quella di un calice e poi ci sono tutti questi colori un po' perché comunque il vino l'ho mischiato ad altre cose tipo il rum, tipo il miele e ho fatto, diciamo che ho usato il vino come colore base e poi mischiandolo con altre sostanze logicamente ha cambiato un po' colore e quindi ho potuto fare queste belle sfumature.